Ciao allora vediamo gli accordi di The Girl From Ipanema sono Fa maggiore con la settima maggiore Sol settima o tredicesima Sol minore e Fa sette maggiore Sol minore settimo Sol bemolle che è una sostituzione di tritono sul secondo quinto primo in maggiore Fa maggiore di nuovo tritono sostituzione cioè invece di fare Sol minore Do e Fa Fa Sol minore Sol bemolle e Fa e ci gioca proprio che fa Fa maggiore Fa maggiore inizia in fa la maggiore sol 7, sol minore, sol bemol e fa maggiore come la faccio io? io faccio un intro spostando l'accordo di settima maggiore di un semi do, un cori do e precisamente fa fa la re sol e fa sesta nona quindi fa già va a fare un ritmo a bossa che conosci qualunque quando devo fare come introduzione la strova qua ce l'ho proprio qua se prendi do maggiore, settima maggiore, nona maggiore fa, la, mi, sol poi mi trovo qui all'ottavo tasto il sol settimo lo prendo così fa, si, mi, sol sarebbe la fondamentale qui e sarebbe sol tredicesima sol minore nona do settima do quinta eccedente e fa quindi faccio così quindi faccio così praticamente questo è un accordo come se facessi do settima nona eccedente quando va nella B che fa ce l'ho già qui vedi c'ho l'accordo tipo questo in fa fa settima maggiore sarebbe questa questa posizione qui questa forma qui e la è sol bemolle maggiore e ci suona il tema grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti